Noi di Conad, oltre al prezzo, vi garantiamo sempre la qualità che non teme confronti per la tua spesa. Dai prodotti freschi a quelli per la cura della casa e della persona. Nella nostra linea bagno Conad Essenzie, la delicatezza è di famiglia. Ogni giorno vi offriamo centinaia di prodotti indispensabili a prezzi bassi e fissi. Come il nostro bagno doccia rilassante Conad Essenzie con estratti naturali. La migliore qualità a 1,70 euro, bassi e fissi, qualità e convenienza che non temono confronti. Sono installazioni che raffigurano i personaggi che ci sono nell'affresco della sala consigliare. Abbiamo deciso di fare queste installazioni nei diversi angoli che ricordano il personaggio. Qui oggi siamo in piazza De Amichis, dove De Amichis è nato, insieme ai bambini, anche in un'occasione significativa. Il 17 dicembre c'è stato questo bellissimo scritto fatto da De Amichis che è intitolato il 17 dicembre alle maestre. Un modo per intensificare il rapporto fra la scuola e l'amministrazione pubblica. Grazie. Grazie.